Daniele Pagliari è portato a tutta la sua tira di spesa LPSR Poi la Ford 911 di Mario Cagliari come detto dell'assistenza Buongiorno Satori che si è riuscita Quindi attendiamo, attendiamo perché sono appena partiti Io più che il monitor davvero guarderei le idee soltive Le unirete di curva, dei fulmoni per vedere come le vetture si urbano La Ford 911 di Mario Cagliari è portato a tutta la sua tira di spesa La Ford 911 di Mario Cagliari è portato a tutta la sua tira di spesa Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.